Amici, ma soprattutto nemici bianco e neri, buonasera, buonasera. Allora, allora, vi devo dire questa cosa, visto che sono, ho la fortuna, ho la fortuna, ho la fortuna, ho la fortuna di parlare con un vecchio dirigente, con un vecchio dirigente come Luciano Mocci, Luciano Mocci. Allora, io voglio dire, Luciano, Luciano, ma che minchia hai combinato? Ma che minchia hai combinato, porca puttana? Ma è mai possibile, è mai possibile, perché è un uomo, è un uomo con i capelli, almeno a metà, con i capelli bianchi, dalle parti però, mi vai a combinare quel casino che hai combinato? Porca puttana, ci hai rovinato, sì signore, ci hai rovinato, perché da lì è partito tutto, da lì è partito tutto. Aspetta, mi sta facendo morire da ridere, aspetta un po'. Aspetta un po'. Aspetta un po'. L'ingia ha spiccicato, compà, ha spiccicato. Che vuole, porca puttana, io pensavo che stavo registrato con il telefonino. No, dopo te racconto le esperienze che ho avuto, dopo ti racconto. Vediamo che rispondiamo oggi. Ma in pratica, in pratica, buonasera signor David, le devo dire che gente come lei ha rovinato la piattaforma YouTube, buttando merda su una squadra vincente come la Juventus, che nel 2006 ha pagato l'unica società a pagare in un mondo corrotto. Mi avete ucciso l'anima e con questo vi dico che non confermo e non smentisco. Ma tu sempre le stesse cose però dici, ma porca puttana, ma vuoi dire qualcosa di diverso? Ma puoi specificare i dettagli? Puoi specificare che cosa è successo, porco giuda? Puoi specificare? Agnelli. E sei sempre lì a dire sempre e ne mentisco e ne confermo e ne confermo e ne smentisco, ma porco giuda? Allora, o confermo e ne smentisci? Due sono le cose. Devo, allora, la cosa che posso confermare è quello che vi ho detto prima. Lei si deve togliere dal tubo, perché lei danneggia il mondo Juventus. Io sono Juventino, io sono Juventino nel sangue, io difendo la Juventus. A me quello che c'è intorno fa tutto schifo, va bene? Oh, che cazzo? Diciamo, io difendo la Juventus. In questo modo, in questo modo, lei può difendere altro. La Juventus non ha bisogno di gente come lei. Io sento i suoi video, ne avete a mani, ma con questi video contro Allegri. Ma dovete smettere. Guarda, ragà, meritati applausi, bravi. Applausi.